Una delusione veramente enorme, ho visto le facce spogliatoio veramente abbattute, era una partita fondamentale, riprendevamo l'Umezane, ci sbloccavamo in casa, c'erano tanti fattori veramente importanti, è un'ammazzata grossa, però bisogna andare avanti, bisogna cercare di rasserenare la testa, secondo me oggi abbiamo fatto una buona partita quindi siamo sulla strada giusta e bisogna ricaricare le pile e cercare di affrontare il Bassano per cercare di fare punti. Se siamo in questa situazione di classifica vuol dire che i problemi ci sono, però come ho detto secondo me è un aspetto soprattutto mentale, soprattutto in casa, però oggi abbiamo fatto una delle migliori partite, abbiamo concesso pochissimo, ci hanno tirato solo dai 20 ai 25 metri, secondo me la partita c'è stata oggi, poi l'episodio finale è una cosa a parte, bisogna essere forse più cattivi, però non so neanche che dire, è un episodio. È una situazione di classifica difficile, è normale che se hai più punti, se sei messo meglio in classifica, è più facile anche gestire il risultato, gestire la palla, è normale, bisogna avere un pelino più di personalità per cercare di gestire il pallone, cercare di, soprattutto anche negli ultimi 10 minuti, di tenere la palla più avanti possibile. Non ce l'abbiamo fatta, però poi, come ho detto, i rischi non li abbiamo avuti, l'episodio finale è ammazzata proprio a parte, è un episodio che fa male.